buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di capwing un'applicazione di foto editing e di video editing che permette di creare contenuti grafici e video tramite l'utilizzo di diversi strumenti andando nella sezione tools possiamo vedere tutti gli strumenti che l'applicazione mette a disposizione quindi tutte le operazioni che è possibile effettuare tramite questa applicazione quindi per esempio si possono editare video e montare video creare meme inserire audio e sottotitoli video e molte altre cose inoltre è possibile creare i propri progetti partendo da zero oppure utilizzando vari template che l'applicazione mette a disposizione e i progetti poi possono essere anche condivisi con altri utenti in modo da creare quindi delle collaborazioni oppure possono essere poi esportati in diversi formati e risoluzioni capwing è sia un'applicazione web sia un'applicazione disponibile per android per poter utilizzare l'applicazione è necessario registrarsi anche se la registrazione non è obbligatoria ma se non ci si registra non è possibile sfruttare a pieno tutte le funzionalità dell'applicazione dopo essersi registrati sarà possibile accedere alla dashboard del proprio account dove qui al centro potremmo vedere tutti i progetti realizzati o crearne di nuovi e dal menu qui a sinistra sarà possibile aggiungere membri per creare delle collaborazioni organizzare i propri progetti in cartelle qui sarà possibile visionare i progetti condivisi accedere ai vari template che l'applicazione mette a disposizione oppure andare a ricercare lo strumento in particolare di cui abbiamo bisogno questa è la schermata di editing dell'applicazione per iniziare a creare il proprio progetto si potrà caricare un'immagine un video dal proprio computer oppure inserire un url oppure caricare file da google drive o google foto oppure sarà sempre possibile andare a utilizzare vari template che l'applicazione mette a disposizione dal menu qui a sinistra inoltre in questo menu si potranno svolgere diverse operazioni quindi sarà sempre possibile aggiungere diversi media quindi foto o video e sarà possibile anche sovrapporli l'uno con l'altro aggiungere testi, sottotitoli, video, immagini, elementi vari nel menu a destra è possibile trovare diversi strumenti per andare a modificare l'immagine quindi abbiamo la possibilità di ritagliarla, di cancellare delle parti di immagini di aggiungere dei filtri, di aggiustare la luce, il contrasto quindi questa schermata di editing mi permette di creare dei contenuti grafici come appunto in questo caso delle immagini sarà possibile anche creare dei meme, dei loghi, modificare foto e svolgere poi anche molte altre operazioni come abbiamo visto prima nella sezione dei tools questa invece è la schermata di editing di un video si può notare che è identica a quella presentata per quanto riguarda l'editing di foto l'unica differenza è che qui appare la barra di riproduzione del video con una serie di elementi inseriti quindi l'audio, delle caselle di testo, dei sottotitoli che compariranno tutti quanti in questo menu qui sulla sinistra e sarà possibile anche andare a modificare poi i singoli elementi Capwing quindi è un'applicazione molto utile sia per creare contenuti grafici sia per creare ed editare video permette di svolgere moltissime funzioni sono veramente troppe per essere presentate tutte quante ma andando nella sezione dei tools sarà possibile scegliere l'operazione che si vuole svolgere per esempio se vogliamo convertire il video basterà cliccarci sopra cliccare su start e l'app quindi poi permetterà di fare quell'operazione nello specifico poi come abbiamo visto la schermata di editing non è assolutamente difficile da utilizzare anzi è molto intuitiva e permette di svolgere moltissime operazioni il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti Grazie a tutti